L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e la Vergine concepita e l'opera dello Spirito Santo. Ecco la serva del Signore, si compia in me la tua parola. E il verbo di Dio si è fatto caro e venne ad amicare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le gambe e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie a tutti.